Rieccoci! Allora, questa volta io e Matteo abbiamo deciso di finire un intero gioco. Non lo faremo in un solo video, vogliamo fare una serie di video. Il gioco che abbiamo scelto è Resident Evil 7. Serum! Quindi, Serum! Quindi, non sono sicuro che questa serie durerà, visto che non siamo mai costanti su questo channel. Intanto facciamo questo. Se è una cosa che vi piace, andiamo avanti, altrimenti resterà solo questo episodio di un gioco mai finito. Iniziamo! Casa degli orrori, facciamo normale. Io ho finito praticamente tutti i Resident Evil. Quelli per PlayStation, quelli per Gamecube, il nuovo che è uscito, Resident Evil 2. E questo è l'unico che non ho mai finito. Questa sarebbe la nostra ragazza. Meglio di mia. Questa sta a computer. Ma questi siamo noi e un cattivo. Che il sistema operativo ha? Non sta benissimo. Oh, la stessa ragazza. All I can say is that if you get this... Fine, come al solito. Stay away. Ah, lo finisce la frase. Perché di solito nei film... Se trovi questo video... Stay away. E invece? Invece non stay away. Non è niente. Ma dove siamo? Yeah, no, I'm good. Sardegna? Ma non ho capito che è quella del video messaggio. Praticamente lei ha detto, non raggiungermi mentre ansimava come se stesse per morire. E pretende che il fidanzato mi ha detto, non raggiungermi, stava per morire. Io sto qua a aspettare. Classiche cose da donna. Guarda che autistico responsabile che sono. Ha una macchina tutta di legno, radica. Bello. Ma quanto vale secondo te? Ma più di 20.000 euro. Sì? Sì. Io dico... Chiediamo nei commenti. Chiediamo nei commenti che macchina è e quanto vale. Noi diciamo, io dico 20 e tu? 21? O 19? No, io dico 27. 27, perfetto. E ovviamente... Guarda il tuo obiettivo. Trova mia. Guarda sta casa. Non è rassicurante. Credo è quella giro. Ah, no. È chiusa dall'interno. Un'altra... Ma quanto vale questo furgone? Lo fai vedere la lavanda. Questa pensa che lo usano per lavorare, quindi... Non c'è un cavalletto, lo è professionale. Quanto vale? Secondo me... Ma in queste condizioni ho nuove. No, in queste condizioni? Bravo, ma a te mi piace. In queste condizioni vale... 8.000? 3.000 euro. 3.000 euro, va bene. Nei commenti... Nei commenti... Mamma mia, com'è brutto. Ma che cos'è? Era un'altra persona. Era una persona? Sì, non era... Andava molto dritto. Sì. Aveva una postura. Aveva yearpods. Aveva una postura. Ma dov'è andato? Segui, segui. Comunque lo sai che li sto pentendo, perché non mi piacciono i giochi dove escono le cose all'improvviso. Ti spaventa? No, cercherò di non spaventarlo. E invece si spaventerà? Ti sembra il modo di arredare l'ingresso di casa? Ma sono... Sono zampe di cavallo. Quanto vale secondo te questo? Allora... Comunque si può definire un'opera d'arte. Comunque secondo me vale 7.000 questa opera d'arte. Io lo valuto... Sì? 23.000 euro. Può essere purtroppo. Nei commenti fatevi stare. Sì, che so. Ma sono gambe di cavallo, secondo te è di mucche? No, di cavallo. Sì, di cavallo. Sono lunghe. Sennò sarebbero mucche altissime. Potrebbero essere... Mucche geneticamente modificate? No, mucche modelle. Ah, è vero. Anche qui non sembra ci sia un buon odore. Ah, ma questo però è fresco. L'hanno spento da poco. Sì, bravo. Allora, questa è una borsa. Sarà la borsa di Mia. Guarda che fortuna la patente bruciata. Si è bruciato tutto, a parte la parte che ci permette di riconoscere Mia. Ma ti fanno la multa ai poliziotti se ti fermano con il documento d'identità. Sei così? Sì. Secondo me no, perché dici, guardi, l'ho appena bruciato per sbaglio. Bravo, bravo, bravissimo Matteo. Questa è quella casa del guardiano di quella... Che però si può permettere una... Ah, casa del guardiano. Quello che si è arredato l'ingresso con me l'immagino. Quella è una villona. Ma no, non mi va dentro. Cosa è questo? Ah, sì. È quello della pompa. Dai, ma a te, non mi va dentro l'adempio. È molto buio. Non ce l'hai una torre, cioè? No, ma a te, te lo giuro, veramente non mi piace. Fedi che ce l'hai? Ok. In front. No, no, c'è un rubinetto in mano che mette luce. L'hai visto? Come è il problema? Oh, un pa... Oh, un pa... Sei tu che ti sbagli. Sono io, sono io, sono io, lo faccio sempre. Ah, ah... Almeno sei come difenderti adesso. Ah, ah... Non si apre completo. No, era lì. Bello. Scegli un oggetto da usare. La patente per aprire. Non puoi tagliarla così. Ma va. Bello comunque. Cioè, ho paura, ma bellissimo. Questa è la nostra cucina per te, come... Sì. Però c'è l'acqua. Guarda con che classe ha... Beh, era bene. Oh. Ah, però? Sì. Ah. Non si può chiudere. Non sono ancora pronti. Sì, sì. Dove marcire altri sei mesi. Oh, scarafaggio. Ma taglilo più... Deve toglierlo più veloce. Ma hai visto? Ci ha dato un momento per guardarlo. È con che classe? Sì, sempre con la classe. Cazzo, cazzo. Cazzo, uno scarafaggio. Cazzo, uno scarafaggio. Apro qua. No, questo è chiuso. Seleziona un oggetto, la patente. Niente da fare, così non va. Qui hanno messo l'immondizia Hanno tentato di farsi una bella immondizia al forno Sono accumulatori seriali comunque questi Ma no! Non devi mettere pausa No come no? Ma perché? Ma io con i piedi? No le mani secondo me Hai fatto Più di venti persone scomparsi in due anni Rassicurante Ma te io veramente mi cago sotto Immondizia Che cos'è? Che cos'è? È il cassetto del catarroco Sì È educato L'ex padrone di casa Ma no Guardati allo specchio se hai il coraggio No Dai Guarda giù prima Madonna che paura Fa ancora più paura Siamo solo una luce Il protagonista del gioco è una luce Qua serve qualcosa Vedi? Patente Niente da fare così non va Strano Sembrava proprio ci andasse una patente Pianoforte Pianoforte Un classico di Resident Evil Una foto Ah che foto Una pessima foto profilo Con Anche di Whatsapp Io non aggiungerei mai No Qui c'è un altro Questo vabbè Se può me un po' artistico Questo la seguirei Ah Che bella famiglia Guarda che bel papà rassicurante Comunque loro si sono conosciuti su Tinder Perché lei è proprio molto più bella di lui E lei ha detto Vabbè ormai ci sono Mi sembra simpatico Clicca Sembrano i proprietari Perché? A me sembra un desito Un taso Che cos'è? C'è qualcuno in casa Però non puoi mettere pausa Devo giocare Devo prenderti le tue responsabilità Hai ragione Ma ogni tanto Mi voglio riflettere un attimo No Questi sembrano i proprietari Eh potrei Infatti no? Tutti Forse quell'uccello è il proprietario Sembra il proprietario Vai Sono Ecco fatto Tipo a me non piace più questo gioco ora Che devo fare qua? Patente Non è una videocassetta Chiusa È chiusa dall'interno Così non va Così non va Non è una patente Non è una videocassetta Si confonde Ci guardiamo tutti i quadri Saremo quelli che Sembra la proprietaria Fa sempre ridere questa cosa Eccola Filmato casa abbandonata Ok Vediamo che cosa è Mo' è Mr. Bean nelle migliori puntate Derelict house Ok Figo Di notte ovviamente Ah ma sto giocando io dentro Ma ti sembra il modo il presentatore Il presentatore Hai capito come Ha deciso di iniziare il filmato Stanno facendo un documentario sulla casa Abbandonata Comunque io sto in un In un altro mondo adesso Sto nella videocassetta Non mi può succedere niente Ma tu stai Io sto Sono io Ah non l'avevo capito Ah pure lui E con cosa la sta tenendo la camera Ah ma è vero Io non ci avevo pensato Vabbè seguiamo Immagino hai scorreggiato io Scusate La sedia Mo' gli salta la sedia Non c'è niente Guarda che buco dell'orecchio gigante Che c'è Guarda Enorme C'entrano il 2 euro Ci mette tutti e due gli airpods Guarda come sono fuori Oh ma che sta a fare Ah stava chiamando Ah ma è sparito quello Che ha sfondato la porta Ah io sono il camera Comunque con la bocca Ce l'ho la telecamera Sì sì Una GoPro in bocca Bellissimo Eh sì ha detto che devi andare tu Per riprenderlo come un eroe Che scende Madonna a te non mi va proprio Posso guardare giù mentre scendo Oddio Allora si è automesso in punizione Ma i piedi toccano terra Sta sulle punte Sta baciando una donna alta O sta baciando una donna alta O è pipì Le mani sono in alza Ma secondo te ci devo andare a parlare Matteo si è fatto male Si è fatto malissimo Togli togli Matteo una persona Non è il regista Mo stiamo in Mo dobbiamo andare Lì giù Se avessimo un minimo di cervello No Finisce questo primo episodio Di Resident Evil 7 E Io voglio giocarci ancora Quindi ne faremo sicuramente un altro Poi nei commenti scrivete Se vi fa schifo o no Questa cosa Se non vi piace Non lo facciamo più Però io un altro lo farei Ok? Ci vediamo alla prossima Grazie a tutti